ma bella a tutti ragazzi e bentornati nel canale oggi siamo qui nel nuovissimo video infatti siamo in una nuovissima recensione oggi vi andrò a recensire questa fantastica action cam cross tour ct9000 proprio stamattina infatti mi è arrivata questa scatoletta molto sobria e all'interno troviamo un parco accessori veramente molto ampio apriamo dentro e troviamo mille gadget mille accessori dalle facettine a tutti i ganci da poter utilizzare sia in macchina in bicicletta sulla moto veramente di tutto troviamo inoltre un cavetto micro usb il case impermeabile fino a 30 metri e poi al suo interno troviamo la protagonista la action cam questa action cam economica 4k wifi quindi si può utilizzare per interagire direttamente anche dallo smartphone come vedete ha un'ottima lente di lato abbiamo l'ingresso micro hdmi abbiamo inoltre un ingresso micro usb per poterla ricaricare e la sua slot per una micro sd fino a 128 gb abbiamo un display molto ampio da più di due pollici e se lo accendiamo devo dire che per quanto riguarda il menu è veramente semplice e intuitivo cliccando infatti davanti al lato della lente possiamo scorrere il menu ed è molto facile da settare quindi io direi che è un'ottima action cam dall'altro lato abbiamo le casse per sentire quello che abbiamo registrato e le freccette su e giù per zoomare e spostarci dal menu sopra sul fondo abbiamo lo slot per la batteria che dura intorno a un'ora e mezza quindi molto buona come batteria e al lato dello schermo abbiamo due led di notifiche per quando è accesa per quando registra e per quando è collegata al computer e niente ragazzi è un action camera super economica e devo dire che fa il suo sporco lavoro e sono rimasto sorpreso prima per la qualità dei materiali perché la plastica è molto buona secondo me e anche per la qualità dell'immagine che è veramente sorprendente e sono veramente sorpreso che action cam con un costo così di basso riescono a tirare fuori così tanta qualità e l'altra cosa è per tutti gli accessori che ti danno solo questi accessori infatti hanno un valore di circa 20 30 euro e quindi sono poi tutti accessori che possiamo utilizzare anche con altre action camera cosa dire straconsiglio questa action cam perché ha una qualità pazzesca ad un costo sicuramente misero infatti come sempre trovate tutti i link qui sotto in descrizione e forse riesco anche a procurarvi un codice sconto beh che dire action cam sicuramente promossa adesso vi lascio qualche clip che ho registrato con questa fantastica action cam ciao a tutti ciao a tutti bene ragazzi questa era la video recensione della action cam cross tour ct 9000 se il video vi è piaciuto mi invita a lasciare un bel mi piace un commento iscrivetevi al canale e passate qui sotto in descrizione per avere più dettagli riguardo questa fantastica action camera noi ci vediamo come sempre in un prossimo video io vi saluto bella ciao